Ecco quest'oggi Grotte di Dossi a Villanova a Mondovì. La grotta più colorata d'Italia. Sentierino per arrivare alla grotta, un parcheggio abbastanza grande, addirittura un po' di neve. Operazione casco. L'ingresso. La grotta di Dossi a Villanova. La scoperta della grotta appare del tutto casuale nel 1797, quando un cacciatore che seguiva le impronte di una volpe sulla coltre nevosa, rifugiatosi in uno stretto cunicolo, il cane del cacciatore entrò e il padrone sentì solamente più latrati lontani. Corso in paese per chiedere aiuto, al ritorno di questo cunicolo entrarono in circa 300 persone per esplorare queste incredibili meraviglie. La grotta fu inaugurata il 15 agosto 1893 e fu la prima grotta d'Italia illuminata a luce elettrica. Ogni anno, nel periodo natalizio, si avrà la possibilità di vedere all'interno della grotta circa 40 presepi. Insomma, venite a visitare questa grotta, detta anche la più colorata d'Italia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Terminata la grotta dei Dossi, anche detta la grotta più colorata d'Italia. Molto bella!